Oltre 100 persone monitorate durante la notte nei luoghi della movida altotirrenica, attività commerciali e lidi interessati da controlli sul personale e sulle condizioni igienico-sanitarie dei locali. Sono solo alcuni dei dati contenuti in un lungo comunicato, stampa e inviatoci dal nucleo operativo radiomobile di Scalea, con cui viene messa in rilievo una vasta operazione lungo tutta la fascia costiera altotirrenica, iniziata nel fine settimana appena trascorso e conclusasi ieri notte. Due le persone arrestate, sei quelle denunciate, elevate sanzioni amministrative per circa 30.000 euro ad esercizi commerciali per il mancato rispetto della normativa in materia di occupazione e mercato del lavoro, nonché per mancanza di requisiti e autorizzazioni igienico-sanitarie. I militari delle stazioni di Scalea e Diamante hanno avvistato due persone, un 38enne e un 37enne, rispettivamente per maltrattamenti in famiglia e porta abusivo di armi. A Belvedere Marittimo i carabinieri della locale stazione, all'interno di un parco estivo, hanno fermato e deferito in stato di libertà quattro persone, due uomini e due donne, mentre si aggiravano tra gli appartamenti. Sottoposti a perquisizione, i quattro sono stati trovati in possesso di numerosi arnesi, atti allo scasso, tra cui chiavi alterate e grimaldelli. Infine, i carabinieri di Praia Mare e di Cittadella del Capo, unitamente ai militari del Nucleo Ispettorio del Lavoro del Nucleo Antisofisticazione e Sanità del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale del Gruppo Carabinieri Forestali di Cosenza, hanno controllato numerosi lidi e esercizi commerciali, controllando oltre 40 lavoratori. Elevate contravvenzioni a quattro esercizi pubblici, sia per violazione della normativa in materia di occupazione e mercato del lavoro, sia per mancanza dei requisiti e delle autorizzazioni sanitarie. Il vasto controllo sulla movida altotirrenica d'opera dei carabinieri, unitamente ai militari del 14esimo battaglione Calabria, ha fatto segnare questi risultati. Sette gli assuntori di stupefacente che sono stati fermati nel momento in cui erano alla guida delle proprie autovetture. Tutti e sette sono stati immediatamente segnalati alla prefettura e sono stati destinatari del ritiro del previsto titolo di guida. Un 29enne originario di Cetrave è stato sorpreso alla guida di una motocicletta con un tasso alcolemico sopra il consentito e pertanto è stato deferito in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza. Insomma, controlli a tappeto che si intensificheranno nel periodo di ferragosto. Grazie a tutti.